Basket Lemura si allunga la striscia negativa. La formazione di Luca Andreoli finisce KO sul parquet di Sesto San Giovanni, in una gara sempre a rincorrere. Le lombarde sono forti, si sa, lo dimostra anche la classifica, dove occupano il quarto posto dietro a Schio, Venezia e Virtus Bologna, ma la settima sconfitta stagionale per le Biancorosse rappresenta comunque un piccolo grande campanello di allarme. Prosegue, insomma, il momento delicato di Capitan Miccoli e compagne, costrette ieri a rotazioni ancora più accorciate del solito in virtù dell'assenza di Gilli. A un avvio promettente, con un parziale di 10 a 2 per le Lucchesi, non fa seguito una gara di alta intensità delle Biancorosse, che si trovano presto con Capitan Miccoli gravata di falli. A partire dal sorpasso Sestese, le padrone di casa allungano e si presentano a metà tempo con 16 punti di vantaggio, che diventano 31 quando c'è da giocare solo l'ultimo quarto. Il finale serve soltanto per dare spazio alle giovani dei rispettivi roster e alle giocatrici per perfezionare le loro statistiche. Si chiude 80 a 55 e la prossima settimana, al Palatagliate, arriva la capolista Schio.